A che punto è il nuovo piano industriale? Sarà pronto entro fine gennaio, sarà un piano industriale molto importante che traghetterà l'azienda da qui ai prossimi 5 anni. È un piano di cui oggi abbiamo avuto una piccola anticipazione, vedrà un forte investimento dal punto di vista dell'offerta, soprattutto per i sud, vedrà un forte investimento per quanto riguarda i pendolari e soprattutto per quanto riguarda la digitalizzazione della catena del valore. Sarà un piano industriale che avrà anche la capacità di assorbire investimenti importanti, 6 miliardi sul trasporto regionale per il nuovo materiale, ma soprattutto 4 miliardi su quelle che sono le nuove tecnologie.